Musica Si chiama Marcello Ciao Marcello La Ciro Maniello Quino ma scatti ancora? Dimmi Scatti ancora? Si E come scatti? Sempre con l'Aralogico Con l'F90 La linea di massimo Perché praticamente non mi porto più tutte le macchine di fotografico E i vari obiettivi Che ne pensi del digitale? Non esiste proprio un po' di fotografico digitale Non è fotografico Perché? Ma perché è tutto diverso Versa la resa Versa la tecnologia e tutta Poi non c'è niente da fare Poi la foropessa nel momento dello scatto Nel click Basta Ciao Marcello Buona serata Ciao Marcello Ciao Marcello Ma c'è periologia, si ferma, suona e fa soldi. Io invece faccio il peripatetico, cammino quando foro, come l'antica scuola filosofica greca, studiavano camminando, perciò la scuola peripatetica, poi è nato anche il famoso peripatetico, perché camminano, io sono un peripatetico. Non ci vediamo là da molti anni, penso, no? Sì, e vinti anni, come un bel cancello russo, no, a te l'ho visto qualche altra volta, a mezzo ai miei figli, non sa, c'è che lei va a cattare il benettato te per consigli. Ti raccontavi questa foto? Ti raccontavo praticamente, io stavo in macchina, stavamo tornando, Ti guarda Sanfremonti, devo fare una manifestazione di battenti ogni sette anni, no? Pini è stata una vecchietta, in costume, tutto a cuore, c'è Paolo Santucci che guidava, Paolo fermati che devo fotografare, e me la fotografai, perciò devo stare qua, che non l'avevo mai stampato, ma l'ho stampato per la prima volta. Questo è il canale che praticamente mi ha narrato quando ci ho fatto la mostra l'azzo, quello che mi ha narrato il flauto d'argento. Io volevo oro. Perché non volevi oro? Perché mi volevo oro e facevo cose di soldi, perché io volevo oro, con l'argento che non faccio niente. Raccontami di questo, dai. Guido Gianini per Bocazzolo. Ci sono vari personaggi, scrittori, cantautori, critici, registi, ogni loro ha commentato una mia foto. Architetti, ogni loro ha commentato una mia foto. La presentazione di Antonietta Nilla, la regista. Fran Carminio, il paesologo per questa scritta di tutti i libri sull'Irpinia. Quindi che cosa ha fatto? Ha parlato di questa mia foto. Vittoria Bella, artista, incisora, nolano. Non poteva che non parlare di Gini di Nola, quindi la scelta forafide di Gini di Nola. Paranza San Paolino. Giulio Baffi, critico teatrale di Repubblica che insegna all'Accademia di Belle Alte. E ha parlato di quest'altra mia foto, a parte di altre foto. Mariano Baino, poeta e scrittore, romanziere. E' la Caroli. Commentava uno questa mia foto. E questa è la Caroli. Luigi Compagnoli. E guarda questa fotografia, va. E' una fotografia che precorre i tempi. Eh? Una ragazza di colore con un ragazzo bianco. Vorremmo anche invertere, però hai capito? C'è una certa qualunisura. Questa è una ragazza della Martinica. Quando si è accorso che stavo fotografando, si faceva ancora a fotografare. Mi ha detto il suo indirizzo perché mi mandi poi la foto. Io per detto gli indirizzi. Ma sono talmente dispiaciuti che si può pensare che alla fine l'abbia fregata. Invece no. Siccome sono scapuccione. Per detto gli indirizzi non l'ho mai mandato praticamente. E qui ne parla un amico. Non è nello scrittore, no. E' un intellettuale. Ma non è uno che abbia una qualifica. Alberto D'Angelo è un altro amico. Il quale è quello che praticamente fa l'editore del filo di Partenope. Che c'è la libreria qua a via Costantinopoli. Giuda Inaudi. Cesare Sita. Urbanista, scrittore, architetto e così via. Insegnante della facoltà dell'architettura di Napoli. Gian Cristiano Residenzi. Giornalista e scrittore. E questo è da vedere perché c'è latte e latte. Guarda è tutta una cosa proprio... La prima foto pubblicata sul mondo di Pannuncio nel dicembre del 1961. La violinista. Commentata a sapore di Natale. Poeta. Mia figlia quando era bambina. Il commento di una sua amica. Un'amica di Zelda. Che ha commentato qua. C'è loro di figlio un fotografo. Non una buonetà ma è un fotografo. Fabrizio Ramonino ha scrittito. Io sono anche personaggio di un suo romanzo eh. Ah si. Se tu compri il libro Il Viaggio di Oscar Mondatore. Trovi Giannini personaggio di Fabrizio Ramonino. La quale a un certo momento mi cambia il nome. Mi chiamo Raul. Perché lei cambia il nome a tutti i viventi. Lascio soltanto il nome di Vera Lombardi che era già morta. E di Gervasio. Un compagno anarchico che pure è già morto. Ma tutti gli altri ha cambiato i nomi. Perché erano dei viventi. Io lento Raul nel racconto. Nella descrizione di Fabrizio Ramonino. Gigi Fedele. Un compagno anarchico che adesso vive in India. In una comunità indiana. Editore di una casa discografia. Però non c'è più in India. Non fa niente. Uno Fiorentina. Architetto. Goffedo Fofi. Lo scrittore. Non c'è bisogno di chi sei Goffedo Fofi. Fondatore di decine e decine di riviste. Critico cinematografico. Mimmo Grassi. Un poeta. Questo è un altro fotografico sul mondo di Panna. Rione Terra. A Pozzuoli. Prima di Bradesismo. Ricola. Quando Ricola era bannabile. Pino Grimaldi. Uno dei più grandi grafici che ci siano oggi in Italia. Dall'altro pubblicava anche la rivista Grafica. Insieme a Gersomino e D'Ambrosio. Mirella Larai. Giornalista. Questo è un altro lavoro che ho fatto. Io andavo facendo il wire. Mi mandavo a fare le coppiette. Non potendo più fare coppia. Mi mandavo a fare le coppiette. Scampia. Mirella Larai. Franco Magliocco. L'architetto. Sta in Cina e diventare un sinologo. Noi vieni da qui. Chi se lo volevi scattare? A Palmi Calabro. La colonia degli Angeli. Questa Marchetta è una scrittrice. È una romanzia. Francesco Marino. Questo è bene. A Salerno questo è scattato. Io la prendisco stampata così. Invece molti la prendiscono quella quando c'è scritto pure protagonista, protagonista, protagonista. Franco Marino. Titti Marron, giornalista del mattino. Lello Mazzacano, sociologo e professore universitario. A Maria Messina. Scrittore, critico e così via. Nicola Pagliaro, l'architetto. Hai già scritto? Sì. Ti sei già fatto il pezzo? Sì. Gerardo Pericinzi. Poeta, scrittore, pure loro. Silvio Perrillo, lo scrittore. Mario Persico, il pittore. Piccioni, giornalista e critico. Questo ha scattato da Malta questa foto. È uno dei fori che a me più piacciono. Questa è già vista. È sempre la scultura di Job, il merito della linea per Müller. Commentate per ora da Piccone, giornalista del mattino. Questa è stata pubblicata sul mondo di Pannunzi. E ne parla di Nora Pontelli, che poi la conosce. Abita vicino a me. Questa è stata pubblicata sul mondo di Pannunzi. Per essere un mondo di Pannunzi. E ne parla Ermano Rea, giornalista e scrittore di questa foto. Raffaele Rizzo, poeta e regista. Michele Serio, lo scrittore. Dov'è qua? Il pontile di Castel dell'Oro. Questo è l'albergo Vesuglia. Vesuglia. I fanali a gas del Castel dell'Oro. Colori. Peppino Lario, questo è un fotografo e critico di fotografia. Maurizio Braucci, lo scrittore e sceneggiatore. Chissà, con un sacco di film. Gaetano Gravini, il grafico. Questa è un'amica che però è un'insegnante di liceo. Questa foto è commentata da mia figlia. Questa è un'intervista di Stella Cervasi che è usciso in Repubblica. Questa invece è un'intervista che è usciso in Nord e Sud di Giulio De Martino. E qui finisce il libro. Ci sono le varie, poi ci sono altre pubblicazioni. Che è in programma adesso? Adesso una mostra a Ravello, una a Ladronica e un'altra a San Andrea di Conza. in bocca è lui. In bocca, in bocca è lui. C'era i figli di lui, per ciò che sa che voglia di uno perché è la fine. So che oggi non ci sono mai però in passare gli anni ci sono. Che voglia di fare una nota. Non divesse insomma un'altra a San Andrea di Conza. Questa è il nostro amico. Glenda al nostro amico e al nostro amico. E qui si riempi a fare la nostra propria. Anche queste con la nostra siano. Che com' la nostra siano un'operazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.